come mi rompe coglione ah io lo metto in giù il giardino se mi fa girare coglione e lo lascio là poi no il mio il mio è d'appartamento non abbaglia sta sdraggiando tutto il gioco quello che questo vuole giocare perché quella ci gioca sempre non ci fa ci perde tempo e lui è abituato ora veramente dice minchia ma tu niente fai non mi rompe le coglione lanciagli una pallina col piede lui te la riporta se ha fatto uccidere la pallina finì un altro un altro qua con me è atterrato occhio eh lo vedo lo vedo a sinistra si sta fottendo la macchina no già se l'ha affrontato grazie a tutti 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 grazie Vabbè, ora Qui ci sono gli zaini Ce l'ho, ce l'ho C'è uno zainetto Sa per uno Un caricatore steso Per mitraglietta piccola C'hai 7,62 tu dame Sì Se vuoi te li do, qua ce ne farei io ne ho parecchie Qua ce n'è ancora qua sopra E non tanti anch'io Ah ce le hai? Sì, sì Tu c'è la mitraglietta anche quella piccola? No, sì, la mitraglietta piccola è la K Ah, beh, lì non c'è più niente Allora, loro dove sono? Loro sono Allora, noi che numero siamo? Noi l'uno e il tre Allora, andiamo all'uno, dai Mettiamo a pinghio uno C'è una macchina Andiamo a Ippo, che è qua vicino Noi ce ne andiamo Johnny, andiamo a pinghio one Sei molto, molto Tengo il pick up E noi pure, abbiamo una macchina qui Andiamo a Ippo Venne il chicken, dai Hanno fatto delle tre figure di merda Noi ce ne andiamo Vuoi? Mira per sei Mi serve mira per quattro Mira per sei Mira Mi sa che te l'ha pingato un per sei Per quattro è qui Ha pingato Johnny? Sì, Johnny un per sei Grazie a John No, non è non ho visto non ho visto non so doveva andare il suo figlio è sempre è sua sorella è una madre se il radar il carattere delle iniziate maiuscole ho già stato il bagaggio d'emergenza l'ha pingato Ippo il carattere delle iniziate viene per 4 1 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 ma con una perlina ce n'è in giro? no io ne ho trovati pochissimo ottimo guarda 7,62 guarda 7,62 ce n'è una caterva eh si quanti quanti ne vuoi qua andiamo 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 in ruota ma voi i kit medici cosa ne avete? uno un kit medici io non ho ne una bibita manco un kit medici e 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 johnny vai nel direttamente della safe johnny johnny si avion moto moto detras moto detras no è auto non è moto ecco eccolo la andiamo a cambiare la macchina ho due i due due andate con quella macchina due con quella no Ippo viene drop a la izquierda drop drop e e e e e e e e e attenzione e 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 uno e 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 buongiorno 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 caricatore esteso esteso no io io qua c'è un kit gane io duele io io vado fuori a guardare se si vede qualcosa ragazzi che mi ho mi i 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 Occhio che c'è gente qua uscita ragazzi Umo Umo aiutatelo a puntare l'altro Occhio che c'è una maquina 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 Enermi Occhio che c'è una maquina 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 De lante 115 Dentro 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 dame Autos Che un auto squad suolo, suolo, del coche mira per 6 guardate di sempre torno, raga necessità munizione dei sui fusili c'è qualcuno qua vicino siamo molto bene qui nel punto, molto bene guardate vedo che l'ate, ha disparato por detras? espera, espera, espera están disparando por alcun lado ce n'è uno qua davanti stiamo molto bene vedete che spara no, 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 non sono tutti i bot por como dispara ce n'era uno dietro, occhio copre minchia, manomale che mi sono girato, puttana miseria ci sono controllati sempre dappertutto ostia qualcuno ci ha visto, ci sta puntando c'è a 9 mm questo per caso, dame davvero? non lo guardate non lo guardate non lo guardate non lo guardate no, 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 no che sta andando è studiata per raggiungere lo scuolo 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 macchina macchina ce n'è uno dietro al finger rosso macchina 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 Ce n'è due qua. Lui dove? Qua al distributore. Occhio, ce n'è due qua. Johnny! Sì, sì, silenzio, silenzio. E' qua dietro, e' qua dietro! Ce n'è un altro, ce n'è un altro, occhio. Ce n'è due. Abbiamo vinto! Bravo, silenzio, che devo parlare molto, molto! Bravo, Johnny! Sì, venga, otra vittoria, Orbi!